Qui al Museo Archeologico Nazionale Civitavecchia presentiamo il restauro di queste lamine in piombo che sono un reperto molto importante da un punto di vista storico ed epigrafico. Il restauro è stato sponsorizzato dalla Società Storica Civitavecchiese in memoria di Odoardo Totti, scomparso proprio un anno fa e quindi è in sua memoria. Il restauro è stato eseguito dalla ditta Decor Restauro, ringrazio Domizia Colonnello. Si tratta di uno dei testi epigrafici in lingua etrusca più lunghi che possediamo. Il restauro ha permesso di riportare in luce la scrittura, si tratta di una scrittura naturalmente da destra a sinistra che si sviluppava su 11 righe. Proviene dal santuario di Punta della Vipera, situato a circa due chilometri tra Santa Marinella e Civitavecchia. Queste lamine sono state ritrovate in un pozzo, sembra che facciano riferimento a delle prescrizioni rituali per la casta sacerdotale che era nel santuario, santuario dedicato a Minerva, ad una divinità dall'aspetto salutare. Ce lo mostrano tutti gli ex voto che venivano dai fedeli dedicati alla divinità per ottenere la grazia. Quindi è la prima parte, la prima tappa di un lavoro più complesso che però ha ridato dignità a un monumento che è di grande interesse proprio per la storia del nostro territorio ma non solo. Il restauro delle laminette è stato abbastanza complicato perché ero in uno stato di conservazione molto degradato, frammentario e polveroso. La cosa più difficile è stata la ricostruzione, perciò la forma come si vede adesso e soprattutto rifare uscire fuori le iscrizioni. Perciò è stato un lavoro complicato e molto minuzioso. Siamo riuscite, io e la mia collega, comunque lo staff della Decore, a riuscire a fare questo miracolo. Noi come società storica, già dopo la scomparsa del dottor Edoardo Totti, che era nostro presidente onorario, abbiamo stretto un rapporto di collaborazione col Museo archeologico nazionale e come prima iniziativa già l'altro anno facemmo intitolare al dottore il secondo piano del museo, il restauro delle lamine di punta della vipera, un reperto etrusco di un'importanza fondamentale per la conoscenza della sua lingua. Il dottor Totti, come ben sapete, era molto affezionato a questo museo perché l'aveva ordinato già negli anni 70 e adesso noi vogliamo proseguire nella sua opera di valorizzazione di questo tesoro patrimonio della nostra città.